Benvenuti telespettatori edizione Bassano TG, vediamo insieme i fatti principali della settimana. Penso che le meritiamo. Per l'altopiano di Asiago essere ai nastri di partenza di una competizione per l'assegnazione delle Olimpiadi è già come aver vinto una mezza Olimpiade. L'idea di Rete Veneta che anche l'altopiano possa avere una sua visibilità all'interno della competizione a cinque cerchi galvanizza un territorio che da troppo tempo si sente privo delle attenzioni che merita. Ora però qualcosa è cambiato e l'annuncio del governatore Luca Zaglia che lascia aperti degli spirali che potrebbero offrire all'altopiano la possibilità di ospitare qualche competizione nelle Olimpiadi invernali viene accolta come un trionfo. Con Zaglia e con la Giunta che è sempre stato un stretto contatto e in qualche modo le speranze non sono mai venute meno anche quando sembrava tutto perso. Ora però c'è da combattere tutti assieme per fare in modo che la candidatura italiana, il tandem Lombardo-Veneto porti fino al traguardo chiamato assegnazione. Quindi noi ringraziamo come altopiano e come presidente dell'Unione Montana a nome di tutti i sindaci ringrazio il nostro governatore Zaglia per darci questa ulteriore apertura e garantire spero a Cortina, al Veneto e a Milano l'assegnazione di queste Olimpiadi. In altopiano e se al momento non si festeggia ancora di sicuro si guarda questa possibilità con un sorriso sulle labbra. È positivo per noi perché confidavamo sull'impegno che si era assunto il presidente Zaglia verso Asiago e verso l'altopiano perché riteniamo che la nostra terra oltre ad avere una grande vocazione negli sport invernali sia anche portata per alcune discipline olimpiche come ad esempio il salto, la combinata nordica e il fondo. Una foto pubblicizzata in grande stile dai deputati Racchella e Covolo che la settimana scorsa hanno consegnato il dossier sul tribunale della Pedemontana al sottosegretario alla giustizia. Il problema è che da Roma, dall'esecutivo, non arrivano segnali. Non ci sono indicazioni precise in merito al futuro del palazzo di giustizia cittadino chiuso ancora prima di entrare in funzione. La polemica allora in città monta. Io ricordo che un giorno sì e un giorno no ci ricordavano e ricordavamo anche noi dal territorio, pur essendo politicamente della stessa parte, che bisognava aprire il tribunale di Bassano. È nata attorno a questo anche la proposta di creare un tribunale diverso, quindi il tribunale della Pedemontana. Si sono attivati i comuni, i sindaci, siamo sempre stati impegnati in questo e ripeto, un giorno sì e un giorno no ci ricordavano quali fossero le nostre responsabilità essendo il governo romano. Oggi sembra che tutti si sono dimenticati di questo problema, quindi è bene ricordarlo perché non è possibile che in centro a Bassano ci sia una struttura di queste dimensioni che al momento è vuota e costosa per niente per la collettività. Campagnolo riserva una stoccata al governo autodefinito del cambiamento. Questa cosa non può essere giocata così sul vessante della politica, insomma o si fa o non si fa. Adesso c'è un governo che sembra, no, si accredita come un governo decisionista che decide, decidono, insomma dicano velocemente quello che vogliono fare e che niente il tema si pone di un diverso utilizzo di quel fabbricato. Rete Veneta si sta battendo con convinzione per la riapertura del palazzo di giustizia. Non abbiamo risparmiato critiche al centro-sinistra e non lo faremo nemmeno con il centro-destra. Serve chiarezza, traccheggiare infatti sarebbe un peccato mortale. Ci spieghiamo meglio, non iludiamo professionisti e imprese. Se non ci sono prospettive concrete sul tribunale è meglio dirlo subito. Sì, in Veneto 26 comuni il 16 dicembre di quest'anno dovranno ovviamente esprimersi in merito a questi processi di fusione che sono partiti dai sindaci e dai consiglieri comunali. E noi come ovviamente Regione abbiamo finanziato gli studi di fattibilità e li abbiamo anche aiutati in questi mesi per seguire tutto il litro amministrativo. Il 17 dicembre probabilmente avremo dei nuovi comuni, più grandi, più strutturati e con maggiori possibilità di offrire migliori servizi ai propri concittadini. Ne sono convinti in Regione visto che hanno dato un giudizio positivo di meritevolezza sui vari progetti di fusione. Mason Vicentino con Molvena, Crespano e Paderno e poi Cismondo e Grappa, Valstagna, San Nazario Campolongo sul Brenta e Solagna per quanto riguarda la Val Brenta. Nasceranno in Veneto dieci nuovi comuni e il numero complessivo di amministrazioni componenti del territorio regionale passerà da 571 a 555. L'operazione in Val Brenta è la più importante ma anche la più complicata. Ci sono delle perplessità legate soprattutto ai finanziamenti, perplessità legate anche alla perdita magari di identità di singoli comuni. Noi siamo dell'idea che oggi, in base anche ai tagli che hanno avuto i comuni negli ultimi dieci anni, basta pensare che oggi un sindaco governa col 50% di risorse rispetto a dieci anni fa. La fusione, soprattutto per i comuni medio-piccoli, è una necessità. Oggi purtroppo i problemi legati principalmente al sociale stanno aumentando, aumentando in maniera notevole. C'è la necessità soprattutto di intervenire anche in molti edifici pubblici e oggi abbiamo visto che chi si mette assieme e chi fa le fusioni hanno la possibilità di ottenere contributi statali e regionali, ma anche hanno la possibilità di attuare delle economie di scala per migliorare i servizi della popolazione. Tornano a soffiare venti di rivolta dall'altopiano verso la pianura. Il caso dell'ortopedia dell'ospedale di Asiago sta facendo ribollire gli animi degli amministratori montani. Il sindaco Roberto Rigoni Stern accusa di superficialità ai vertici dell'Ulsepe de Montana, che pur essendo a conoscenza dell'imminente pensionamento del primario e il dottor Costa Curta, non avrebbero preso i necessari provvedimenti per garantire la continuità del servizio. Questa cosa è sfuggita di mano la direzione, mi dispiace perché bastava avere un po' più di sensibilità nel rapporto con il primario e con i medici che compongono le tip. Per ricordo, se ne stanno andando tutti, sono quattro medici che se ne vanno tutti. Ci sarà una motivazione, forse non c'è stato dialogo, non c'è stata la capacità di ascoltare, né di chiedere quali potessero essere le prospettive di questo reparto così importante per la nostra sanità. È impensabile la sospensione dell'operatività del reparto. Continua duro il sindaco, che difende a spada tratta il suo ospedale, che non vuole relegato a struttura di serie B. Non dobbiamo dimenticarci che l'ospedale di Asiago è un ospedale a tutti gli effetti e pertanto non si può semplicemente concentrare l'attenzione su Sant'Orso, su Bassano. Non accettiamo che il nostro ospedale venga privato di servizi fondamentali, quali quelli dell'ortopedia. E Asiago minaccia la discesa su Venezia fino ai palazzi della regione per battere i pugni sui tavoli che contano per rivendicare il diritto di godere di servizi sanitari all'altezza. Siamo pronti ad impegnare delle risorse, io come sindaco di Asiago metteremo delle risorse se sarà necessario, se ci renderemo conto che ancora una volta si avrà una prospettiva di chiusura di un settore così importante, qual è l'ortopedia. Quindi scenderemo in regione, andremo a parlare con il governatore. Ancora una volta, l'altopiano è sul piede di guerra, non è disposto a fare nessun passo indietro, chiede certezze e in tempi rapidi. Lo avevano annunciato al nostro microfono, lo ricordate? Avevano avviato una raccolta firme e... Abbiamo preparato anche una lettera per chiedere che venga rivista questa situazione in maniera magari un po' più consona sia alle attività che al turismo. Bene, in mattinata una delegazione dei commercianti ed esercenti di piazza Terraglio e Viale dei Martiri è stata ricevuta in municipio per portare la loro richiesta di modifica della situazione parcheggi. A oggi sono suddivisi tra blu e gialli a pagamento e per residenti, ma così non funziona proprio e sta penalizzando di molto chi lavora in zona. Oggi il dialogo con il sindaco pare sia stato fruttuoso. Lui ci avrebbe proposto di mettere la doppia riga sia qua che in Viale dei Martiri, come nella discesa che va in Marniano. Il sindaco sembra intenzionato a fare qualcosa, insomma. È andata bene perché voi però vi siete fatti avanti? Beh sì, questo sì, però già trovare una porta aperta da parte dell'amministrazione a noi ci ha fatto molto piacere. Adesso stiamo a vedere se verrà fatto quello che è stato proposto, insomma. Tempi? Vi è dato qualche tempo? Tempi no e non sappiamo se questa è una cosa che può essere fatta per decreto o se deve essere fatto un consiglio comunale, però tra tutte le soluzioni questa è la più veloce, volendo, e anche la più economica. C'è però un'incognita in tutta questa vicenda, ovvero i residenti, già sfrattati dal castello e spostati parte in Terraglio, parte in Viale dei Martiri. Speriamo non ci siano problemi dai residenti che non mettano il proverbiale bastone fra le ruote a una situazione che comunque salverebbe capra e cavoli, dove la capra è il castello vuoto, i cavoli siamo noi commercianti e loro residenti. Anche perché bisogna considerare che si avvicina l'inverno e con i mesi freddi arriva anche il periodo degli acquisti natalizi, quando la città è particolarmente frequentata. In ogni caso noi seguiremo la vicenda e controlleremo se davvero il sindaco manterrà la parola data. Abbandonata l'idea della scala mobile di cui a Bassano si è parlato per anni, ora si punta ad una diversa soluzione, un tapiruland a Prato Santa Caterina a Viale dei Martiri. Qualcuno potrebbe pensare ad un fantaprogetto, invece non è così. Informalmente, nelle sue settimane, abbiamo registrato un'apertura da parte di sovrintendenza in vista di un progetto un po' diverso, molto meno impattante. Un'apertura che fa ben sperare per un progetto a basso impatto ambientale, un'opera che permetterebbe a chi parcheggia in Prato e a chi vive in quartiere Marnian di raggiungere agevolmente il centro. Noi infitteremo i colloqui con sovrintendenza per capire quali sono i paletti di una progettazione di questo tipo. Quando capiamo quali sono i paletti entro i quali ci si può muovere, approntiamo uno studio di fattibilità, poi progettazione e ricerca di risorse. Se la cifra è come quella che pare sia, ma ripeto siamo in una fase ancora abbastanza primordiale, di 200-300 mila euro, è una cifra consistente ma non impossibile, e quindi ci metteremo di impegno perché allora la volontà politica c'è. Se ci sono anche le condizioni di tutela, di paesaggio, la cifra non spaventa. Altro tema caldo, quello del parcheggio di Piazzale Terraglio. Il sindaco apre alle richieste dei commercianti e valuta soluzioni alternative. Una possibilità è aumentare la doppia funzione dei parcheggi, cioè parcheggi che possono essere per soli residenti la sera e durante la notte e durante i giorni invece possono essere utilizzati anche con il ticket, quindi parcheggio blu, parcheggio a pagamento utilizzabile da chiunque. La sera però solo residenti? La sera solo residenti perché è importante dare possibilità a chi abita in centro storico e non a garage di poter avere dei parcheggi vicini a casa. Un nuovo passo verso il tanto atteso cantiere per guarire il grande malato, pubblicata all'albo pretorio la determina dirigenziale che affida il completamento dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio, alla ditta in quest'arrelle di Pergine Val Sugana. Una spesa di 4.332.914.81 euro, IVA compresa. Un passaggio fondamentale, dichiara il sindaco Poletto. L'atto ufficiale con cui il Comune dice bene i lavori sono affidati a questa ditta. Adesso non appena le fidei osioni e le altre documentazioni saranno pronte, si farà la firma dei contratti, a seguito di questi la incoa parecchie settimane per approvvigionarsi di legnami e quant'altro di materiale serva, per fare la lavorazione di officina per le travi di fondazioni, in modo da essere pronta a dicembre, quando Genio Civile ci darà l'ok per poter entrare in alveo e finalmente far ripartire degnamente questo lavoro di restauro. Giusto per capire, la firma non c'è ancora? Non ci sono rischi, non si corrono rischi in questo periodo? Assolutamente no. La ditta ha manifestato l'interesse e la piena disponibilità a fare questo lavoro. Se avesse avuto reticenze non avrebbe accettato l'incarico. L'incarico è stato dato, adesso per il contratto serve una serie di documentazioni che sono quelle di rito. Conto che non passeranno molti altri giorni prima della firma del contratto. Sembra che sia la volta buona, insomma, i lavori potrebbero riprendere già a dicembre. Da metà dicembre in poi circa si cominceranno delle stile letture. Già da oggi, da ora, si comincia a predisporre il resto di lavoro che va fatto fuori fiume, di modo che poi nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, si possa essere pienamente operativi e mettere in sesto, adrizzare il ponte e mettere in sesto almeno due stilate, di modo che metà lavoro di messa, diciamo, di lavoro di restauro parte strutturale sia compiuto. Autonomia, marcia ingranata e la maggioranza giallo-verde preme sull'acceleratore. Approvata da Camera e Senato, su richiesta dei capogruppo di Lega e Movimento 5 Stelle, una risoluzione che impegna l'esecutivo a garantire maggiore autonomia a Veneto e Lombardia, in piena attuazione dell'articolo 116 della Costituzione. Un'accelerata accolta con entusiasmo dalla Ministra per gli Affari Regionali e l'autonomia Erika Stefani, che sottolinea la chiara volontà del Governo di arrivare all'attuazione del regionalismo differenziato sia per chi ha già formalizzato la richiesta di autonomia, sia per le regioni che ancora devono farlo. E nella discussione allora si inserisce la Toscana, il cui Presidente Enrico Rossi obietta che una maggiore autonomia va data a tutte le regioni che chiedono l'allargamento delle prerogative previste dalla Costituzione e considera poco realistica la richiesta di trattenere i nove decimi delle tasse combinata alle 23 materie, tanto cara al Veneto e al Presidente Zaia. Se Rossi della Toscana vuole l'autonomia non fa altro che chiederla. Ricordo che il Veneto non è che si è svegliato un anno fa. Il Veneto ha già presentato nel 2007 una richiesta. Il passo avanti della maggioranza comunque con ogni probabilità rientra nelle concessioni reciproche che Lega e Pentastellati stanno mettendo in atto nell'ambito del DEF per salvaguardare quell'equilibrio delicatissimo sui rispettivi elettorati dalle sensibilità indubbiamente molto diverse. Il carroccio vorrebbe tutto e subito, i 5 Stelle pare preferiscano un percorso più graduale. Sul fronte opposto le obiezioni soprattutto sull'aspetto dei criteri da adottare per concedere le maggiori competenze richieste, come quelle sollevate dal Presidente della Regione Toscana. Il Presidente Rossi e la Toscana hanno avuto esattamente 17 anni a disposizione per fare la richiesta. Se ancora non l'hanno fatta, l'affacciano, perché comunque le porte sono aperte a tutti. Buongiorno, Sindaco, allora giornata di festa. Giornata di festa. Inauguriamo una pista ciclabile che? Una pista ciclabile estremamente importante per il nostro territorio, circa un chilometro, importo lavori di 600 mila euro e 230 mila euro con tributo della provincia che ringrazio la provincia di Padua e il Presidente Soranzo per l'assessibilità che ha avuto nel dimostrare attenzione a un punto nero critico della viabilità provinciale. Infatti vediamo la provinciale che c'è dietro di lei, insomma, non era sicura per i ciclisti. Assolutamente no, infatti questa andrà a collegare, oltre a questa importante isola ecologica del nostro territorio, una zona industriale di un milione di metri quadrati con tante aziende e tanti lavoratori che possono anche arrivare in bici, ma soprattutto andrà a collegare anche il vicino comune di San Pietringù anche per un collegamento ciclabile sicuro tra i due territori. Qui a Carmignano oggi inauguriamo una prima parte di una pista ciclabile importante e fondamentale con la strada provinciale di collegamento fra le varie zone, ma poi nel progetto delle piste ciclabili del comune ce n'è veramente tantissimi chilometri da Carmignano, zone industriali, si arriva fino all'estremo punto più lontano che è Cammazzole, San Giovanni, quindi si va fino alla parte, ai confini con la provincia di Vicenza. Credo che questa sia una grande opera di attenzione verso i cittadini, ma ancora di più verso la salute dei nostri cittadini. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata. La freschezza dei formaggi locali la trovi da Cherubin. Letteria 5,90 euro al chilo. Veccia Mastea 6,90 euro al chilo. Asiago dolce 6,90 euro al chilo. Le previsioni per domani. Poco nuvoloso con possibili foschie o locali nebbie nelle ore più fredde in pianura. Temperature senza notevoli variazioni o in locale diminuzione. Temporanei moderati rinforzi dei venti dai quadranti orientali in pianura. Cherubin, tutta la fragranza di pane, focacce e biscotti cotti a legna a 3,90 euro. Vi aspettiamo tutti i giovedì e sabato mattina con degustazione e prodotti tipici locali. Cherubin, a Bassano, via Gobbi. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.